Un milione di euro scritto in bilancio per il restyling del pontile e con l'approvazione del nuovo strumento finanziario il comune di Roseto ha inserito la spesa prevista per il recupero di una struttura che a distanza di oltre 30 anni dalla sua realizzazione solo in un paio di circostanze è stata sottoposta ad interventi di manutenzione ordinaria. Dopo la conferma da parte del precedente governo di una serie di finanziamenti compreso quello relativo alla ristrutturazione del pontile l'amministrazione rosetana nell'ultimo bilancio ha pianificato la spesa il progetto realizzato dall'architetto Giuseppe Di Sante è di fatto pronto le procedure burocratiche da ultimare riguardano il via libera al progetto esecutivo successivamente spetterà l'ASMEL di Varese il consorzio a cui ha aderito il comune non molto tempo fa per le gare d'appalto di importanti opere pubbliche di indire il bando una procedura che dovrebbe richiedere qualche mese probabilmente il nome della ditta che dovrà occuparsi del recupero di quello che è stato sin dagli anni 80 il simbolo del turismo rosetano si conoscerà entro l'estate la pianificazione dei lavori prevede l'inizio delle opere entro settembre immediatamente dopo la stagione turistica il progetto è complesso e prevede il consolidamento dei pilastri della piattaforma circolare l'abbattimento delle paratie con la sistemazione di pannelli trasparenti una diversa illuminazione con giochi di luce sui due lati del pontile oggi la struttura è in uno stato di degrado che sembra peggiorare col passare dei giorni il calcestruzzo continua a sgretolarsi riportando alla luce il ferro del tutto consumato dalla corrosione del tempo